40. IN DONO Il giorno 7 giugno 2020, alle ore 18, ho ricevuto in dono un apporto dallo strumento Domenico P a Roma. Erano presenti sette persone. L'oggetto fuoriuscito dal cavo orale dello strumento appare come un manufatto di terracotta ceramica di 6 cm x 4 cm, smaltato con vari colori. Si possono evidenziare piccoli danni nei pressi della corona superiore. Presumo che tali danni siano stati provocati dalle modalità di produzione dell'apporto che fuoriuscendo dalla bocca, con l'impatto dei denti anteriori, potrebbe aver riportato minime perdite strutturali. Massimo Ambrosini Massimo Ambrosini Grazie a tutti.